Da lunedì 28 gennaio nella sede della seconda municipalità in Piazza Dante sono disponibili i moduli per chiedere il rinnovo del contrassegno per l'accesso alla ZTL Centro Antico. Sulla richiesta di rinnovo è specificato anche l'elenco della documentazione da consegnare allo sportello insieme allo stampato, al contrassegno scaduto e all'attestazione di avvenuto pagamento del contributo previsto. La novità più rilevante è che da quest'anno sarà possibile per alcune categorie di aventi diritto richiedere il rilascio del contrassegno con validità fino a tre anni, effettuando un versamento cumulativo. Da lunedì 4 febbraio la funicolare di Chiaia effettuerà un nuovo orario di esercizio, con prima corsa alle 6 e mezza ed ultima a mezzanotte e mezza. Il mercoledì e il giovedì la chiusura è prevista alle 22 per la consueta manutenzione ordinaria. Sabato 9 febbraio si terrà in tutta Italia la giornata nazionale di raccolta del farmaco. Nelle farmacie che aderiscono all'evento sarà possibile acquistare e donare un farmaco di automedicazione a chi ha più bisogno. I beneficiari dell'iniziativa saranno oltre 500.000 persone quotidianamente assistite dagli enti caritatevoli convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico. La Bagnoli Futura ha indetto il concorso a Stip Caritruovo per la progettazione e realizzazione di elementi di arredo urbano con l'utilizzo di materiali da riciclo da collocare nelle piazze della Porta del Parco di Bagnoli. Il bando si rivolge a chiunque voglia cimentarsi nello sviluppo delle proprie idee sostenibili. La domanda di adesione va presentata entro il 28 febbraio anche via mail all'indirizzo portadelparcochiocciolabagnolifutura.it